Un solo punto è quello che separa il Biceglie dalla certezza di partecipare agli spareggi promozione nel girone A di eccellenza pugliese, competizione attesa domenica 16 aprile dall'ultimo atto della regular season. I nerazzurri di Francesco Passiatore, secondi nel girone A con 56 punti, sono a meno 8 dal Manfredonia, formazione che ha guidato il campionato in vetta dall'inizio alla fine e che da due settimane è già certa della partecipazione alla finale play-off del raggruppamento. Per evitare l'esclusione dalle partite che nella post-season valgono il salto di categoria e farlo a prescindere dal risultato della capolista nel prossimo turno, Dirito e compagni saranno costretti a far punti sul campo del Mola, formazione terza alla pari con il Corato a quota 51. Per mantenersi entro le 10 lunghezze dal primo posto previste dal regolamento, il Bisceglie dovrà evitare di perdere. In caso di sconfitta nella trasferta contro il Mola e contestuale vittoria del Manfredonia sul campo del Canosa, infatti i play-off non si giocherebbero e la squadra di Pasquale De Candia accederebbe direttamente alla finalissima contro la vincitrice del gruppo B. La situazione muterebbe se i Sipontini non dovessero vincere. Con successo del Bisceglie e mancata vittoria del Corato a Sansevero, la squadra di Passiatore accederebbe comunque alla finale di Girone. Con un pareggio a Mola e il successo Coratino, la semifinale sarebbe invece Bisceglie-Corato. Con il Corato non vincente e segno 1 o X tra Mola e Bisceglie, lo scontro diretto si ripeterebbe in semifinale con la sfida al Manfredoni e in Palio. Almeno un pareggio è anche quello che servirebbe nel gruppo B al Manduria, terzo con 56 punti. Pignataro e compagni a meno 4 dall'O 32 sfideranno in trasferta la capolista città di Gallipoli che oggi guida la classifica a quota 62. Un KO e la vittoria degli Idruntini a Novoli porterebbero il distacco tra secondo e terzo posto a 7 punti e da regolamento comporterebbe la disputa della finale tra città di Gallipoli e Otranto. 90 minuti, diversi verdetti ancora da scrivere. Il campionato di eccellenza scalda i motori in vista dell'ultima curva.